Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio al tuo ospite. Anche questa è andata. 1-0, un po' di fatica sul finale, però questi tre punti li abbiamo portati a casa. La nota positiva, non abbiamo subito gol. Bentancur dà paura, bravissimo. Mandzukic e Quarrado su tutti, insieme a Bentancur. Sturaro non mi è piaciuto tanto, come non mi è piaciuto a Barcellona. Bentancur mi piace anche a Barcellona, mi piace. Molto bene i cross dalla destra, perché Quarrado quando c'è cross ha spesso e mette in difficoltà. Come dicevo, questa volta non c'era Alexandro, che reputo molto forte e sulla sinistra potrebbe fare altrettanti cross come Quarrado. E per questo mi permisi un pochino di polemizzare con in Sassuolo Juventus, perché pur avendo dato una bella palla a Higuain, non crossava tanto come fa a Quarrado. Visto che anche lui sa saltare molto bene l'uomo. Comunque andiamo avanti così e forza Juve! Ciao Marcello e ciao a tutti Juventinazzi! Grazie! Grazie!